Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo previsto per giovedì 3 maggio. Il vortice di bassa pressione giunto mercoledì a sud della Sardegna si sposterà sul basso tirreno intensificandosi e quindi interessando ancora più rispetto a mercoledì tutta l'Italia con rovesce temporali diffusi che saranno forti soprattutto sull'Abruzzo, il Molise, la Lucania, la Calabria, la Campania e soprattutto sulla Sardegna. Temperature che saranno in rianzo lieve al centro nord ma ancora inferiore alla media invece temperature in calo al sud e solo isole maggiore. Forti venti su tutti i mari. Termino qui e un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.